sei stato al mare hai preso il sole ti sei abbronzato come un dalmata al contrario la pelle si è scurita però è piena di macchioline piccole macchioline di colore chiaro che cosa è successo perché prima queste macchioline non c'erano e adesso ci sono probabilmente avrai una pitiriasi versicolor è un fungo quando non sei abbronzato il colore della pelle è uniforme quando però vai al sole dove si trova il fungo quindi in queste piccole chiazzette le radiazioni solari vengono bloccate e quindi lì la pelle non si colora cosa devi fare prima di tutto ti devi rivolgere ad un medico un dermatologo uno specialista che ti faccia una diagnosi esatta e ti dia anche il medicamento opportuno per questi funghi quello che ti posso dare io come consiglio è di utilizzare dei detergenti appositi che facciano anche abbiano anche un'azione disinfettante e antibatterica quando ti lavi ma fondamentale è che tu cambi il tuo stile di vita soprattutto il tuo stile alimentare perché i funghi come i batteri che si trovano sulla pelle si nutrono di quello di cui ci nutriamo noi quindi se facciamo un'alimentazione troppo ricca di zuccheri i nostri funghi mangeranno tutti questi zuccheri quindi se abbiamo i funghi significa che forse mangiamo con un carico glicemico un pochino troppo alto un po' troppo pane un po' troppa pasta un po' troppa pizza beh questo valutatelo voi però prendete in considerazione di diminuire un pochino questi alimenti e di aumentare invece le verdure soprattutto quelle crude che fanno veramente molto molto bene alla salute e la vostra salute ci sta a cuore grazie